Buon poveriggio ragazzi, oggi si parla di mele, farina, no non sono impazzita, so che da me vi aspettate una lezione di matematica e questa avrete, ma ho portato questa bella mela con cui dopo il video farò merenda perché l'argomento di oggi ha a che vedere forse molto più di altri con problematiche in cui ci troviamo nella vita quotidiana. Quante volte infatti siamo al mercato il prezzo della frutta espresso in kg, ma noi vorremmo comprarne 350 grammi oppure 2,8 kg, come devo fare rapidamente i calcoli per sapere quanto dovrò spendere? E ancora, se devo realizzare una torta e la mia ricetta è per 4 persone, ma i miei ospiti sono 7, quanta farina dovrò considerare? Quale operazione dovrò fare? In tutte queste situazioni ci vengono incontro le proporzioni e procedimenti matematici che a volte, anche senza sapere, applichiamo nella pratica di tutti i giorni. Vediamo cosa sono e come si applicano le regole delle proporzioni, risolvendo rapidamente i dubbi di cui parlavo prima. Ci vediamo dopo, ciao! Ben trovati! Prima di parlare di cosa si intende in matematica per proporzioni, vorrei considerare il termine, l'aggettivo proporzionato. Se noi apriamo un dizionario e cerchiamo il significato dell'aggettivo proporzionato, troviamo che è in proporzione, cioè nella giusta misura rispetto a un altro termine. Nell'arte figurativa, nell'architettura, il concetto di armonia è stato interpretato come armonia tra i rapporti delle varie parti. Ecco, se noi osserviamo questo bel viso, vediamo che le varie parti del viso sono espresse come rapporto, quindi come un terzo dell'intera lunghezza del viso, così la parte della fronte, la parte che va dalle sopracciglia alla punta del naso e la parte che va dalla punta del naso al mento. Anche nell'arte, molte, soprattutto nell'arte classica o nell'arte del Cinquecento, si è parlato di proporzioni e di rapporti tra le parti. Evidentemente il termine proporzione è correlato a rapporto, rapporto matematico che sappiamo che è una divisione tra due termini. Vediamo quindi, facendo un esempio vicino a noi, cosa si intende di per proporzione. Alla vostra destra trovate un macchinario per il confezionamento di merendine a voi note. La macchina A realizza 57 merendine in 3 minuti, la macchina B confeziona 228 merendine in 12 minuti. Quale delle due macchine lavora in maniera più efficiente, quindi confeziona più merendine? Allora, se noi calcoliamo il rapporto tra 57 e 3, otteniamo il valore 19, con riferito alla prima macchina. Vediamo che il rapporto tra il numero di merendine e i minuti impiegati per il loro confezionamento è lo stesso, quindi sempre 19. Quindi possiamo dire che i due rapporti 57 terzi e 228 dodicesimi sono uguali. Possiamo esprimere questa uguaglianza sotto forma di frazione, quindi 57 a 3 e 228 a 12, oppure sotto forma di divisione. Quindi cosa intendiamo per proporzione? La proporzione è un'uguaglianza di due rapporti. Le due macchine A e B lavorano nello stesso modo, confezionano lo stesso numero di merendine. Ciò che è cambiato è che il tempo considerato è stato diverso. Consideriamo un altro esempio. Consideriamo il rapporto della Lega Ambiente del 2017 sulla qualità ambientale dei capoluoghi di provincia. Abbiamo due comuni, due capoluoghi di provincia, Treviso e Forlì. A Treviso ci sono 27 alberi ogni 100 abitanti, almeno secondo il rapporto di Lega Ambiente. Possiamo esprimere questo rapporto sotto forma di frazione o di divisione e ottenere il valore di 0,25. Quindi ogni 100 abitanti avremo 25 alberi. A Forlì avremo 15 alberi ogni 60 abitanti. Possiamo esprimere anche questa volta sotto forma di rapporto sotto forma di divisione. Vediamo che il numero ottenuto dalla divisione è equivalente a quello ottenuto per Treviso. Quindi i due rapporti sono uguali. Quindi possiamo scrivere in questo modo, e già abbiamo una proporzione, che leggeremo 25 sta a 100 come 15 sta a 60, che vuol dire che 25 su 100 è un rapporto identico a 15 su 60. Vediamo un'altra proporzione, 5 su 20 e 3 su 12 è un rapporto, quindi possiamo leggere questa proporzione come 5 sta a 20 come 3 sta a 12. Sotto forma di proporzione lo troviamo in riga scritto in questo modo. I termini, quindi in questo caso che abbiamo una proporzione ben determinata, abbiamo il primo, il secondo, il terzo e il quarto termine, che si chiamano rispettivamente A, B, C e D, si chiamano termini della proporzione. Ecco qua scritta in simboli, dove A e C sono gli antecedenti dei due rapporti e B e D sono i conseguenti dei due rapporti. Nella proporzione il primo e il quarto termine sono detti estremi, mentre il secondo e il terzo sono detti medi. Il quarto termine viene detto quarto proporzionale. Vediamo cos'è una proporzione continua. La leggeremo in questo modo, A sta a B come B sta a C. Cosa troviamo di particolare in questa proporzione? Che il secondo e il terzo termine sono uguali. Un esempio di proporzione continua è 12 sta a 24 come 24 sta a 48. I due rapporti sono uguali, quindi è una proporzione ed è continuo perché il secondo e il terzo termine sono uguali. Medi uguali. I termini di questa proporzione naturalmente sono tre, anche se B è ripetuto due volte, quindi A, B e C sono i termini, A e C sono gli estremi, B, l'unico termine centrale che troviamo nella proporzione è detto medio proporzionale e C viene detto questa volta terzo proporzionale, proprio perché i termini sono tre. Vediamo quali sono le proprietà fondamentali. La proprietà fondamentale è tutte le proprietà delle proporzioni che ci aiutano poi nella risoluzione dei problemi. In ogni proporzione, il prodotto dei medi è uguale al prodotto dei due estremi, così dice la proprietà fondamentale. La proporzione scritta in simboli A sta a B che è uguale a C sta a D, quindi A sta a B come C sta a D, è una proporzione con dei numeri in cui abbiamo sostituito ai simboli i numeri 3 sta a 10 come 9 sta a 30. Quindi, secondo la proprietà fondamentale, se io moltiplico i medi tra loro, devo avere lo stesso risultato se moltiplico gli estremi tra loro, quindi B per C è uguale ad A per D. Quindi 10 per 9, i medi della nostra proporzione numerica, sono uguali a 3 per 30, il che è vero perché otteniamo 90 da entrambi i lati. Possiamo esprimere la proprietà fondamentale anche in modo diverso. Se abbiamo 4 numeri A, B, C e D con B e D diversi da 0, scritti nell'ordine, formano una proporzione se il prodotto del primo E per il quarto E termine è uguale al prodotto del secondo E per il terzo. Vediamo le altre proprietà. È il turno della proprietà dell'invertire. Scambiando ogni antecedente con il proprio conseguente si ottiene ancora una proporzione, quindi abbiamo questa proporzione numerica sulla sinistra, 4 stratte, 3 come 12 sta a 9. applicando la proprietà dell'invertire, quindi scambiando ogni antecedente con il proprio conseguente otteniamo una seconda proporzione, 3 sta a 4 come 9 sta a 12. Andiamo alla proprietà del permutare, cioè scambiare di posto. Scambiando di posto i medi, tra loro oppure tra loro gli estremi, si ottiene ancora una proporzione. Abbiamo la proporzione 4 sta a 3 come 12 sta a 9. Attraverso la proprietà del permutare possiamo ottenere una seconda proporzione, 4 sta a 12 come 3 sta a 9. Oppure 9 sta a 3 come 12 sta a 4. proprietà del comporre. La somma del primo termine e del secondo sta al primo come la somma del terzo e quarto termine sta al terzo. Vediamo questa semplice proporzione, 1 sta a 2 come 3 sta a 6. E qui vediamo applicata la proporzione, 1 più 2 sta a 1, cioè al primo termine, come 3 più 6 sta a 3, cioè al terzo termine. E quindi poi, avendo fatto le somme, otteniamo una seconda proporzione, 3 sta a 1 come 9 sta a 3. Possiamo anche applicare la proprietà del comporre al secondo termine e al quarto, quindi sempre con la stessa proporzione abbiamo 1 più 2 sta a 2, quindi al secondo termine, come 3 più 6 sta a 6, ovvero al quarto termine. E poi facendo le somme, 3 sta a 2 come 9 sta a 6. La proprietà dello scomporre dice che la differenza tra il primo e il secondo termine sta al primo o al secondo, come la differenza fra il terzo e il quarto termine sta al terzo o al quarto. Abbiamo questa proporzione, 6 sta a 5 come 18 sta a 15, in cui applichiamo la proprietà dello scomporre, quindi 6 meno 5 sta a 6, ovvero al primo termine, come 18 meno 15 sta a 18, ovvero al terzo termine. E applicando la sottrazione otterremo 1 sta a 6 come 3 sta a 18. E qui un'altra volta applicata la proprietà dello scomporre al secondo e al quarto, quindi abbiamo 6 meno 5 sta al secondo termine, come 18 meno 15 sta al quarto termine. Anche qua abbiamo eseguito le sottrazioni e abbiamo ottenuto una terza proporzione. Vediamo come calcolare un termine incognito quando non si conoscono tutti e quattro i termini della proporzione. Ad esempio possiamo non avere un estremo, quindi cercare l'estremo incognito, ovvero che non si conosce. Quindi avremo questa proporzione. 16 sta a 8 come 14 sta a x. Noi non conosciamo il valore di x. Come otteniamo x? Bene, il valore di x in una proporzione, quindi quando cerchiamo un estremo, il valore dell'estremo incognito si ottiene moltiplicando i medi tra loro e dividendo per l'estremo che si conosce. Quindi abbiamo moltiplicato i due medi tra di loro, 8 per 14, e poi diviso per 16 e il valore di x è uguale a 7. Possiamo esprimerlo anche in questa forma, quindi 8 per 14 fratto 16, quindi la divisione espressa in questo modo, e ottenere sempre il valore di 7. Quindi se noi sostituiamo poi 7 a questa proporzione e applichiamo la proprietà fondamentale, vediamo che si tratta proprio di una proporzione, quindi è una sorta di prova del calcolo che abbiamo eseguito. se cerchiamo il medio, quindi abbiamo questa proporzione, 24 sta a x come 6 sta a 5, vedremo che il valore del medio in una proporzione, quando è incognito, si ottiene moltiplicando gli estremi tra di loro e dividendo per il medio che si conosce. Quindi moltiplichiamo 24 per 5, diviso il medio che si conosce, otteniamo il valore di 20. Possiamo esprimerlo anche questa volta sotto forma di frazione. E se noi prendiamo il 20 e lo sostituiamo alla x e poi applichiamo la proprietà fondamentale, vedremo che avremo ottenuto la prova del nostro calcolo. Per quanto concerne il calcolo del medio proporzionale, quindi quando ci manca il termine, il secondo e il terzo termine, una proporzione continua, moltiplichiamo tra loro i due medi e otterremo x per x, x alla seconda. Come ottenere quindi il valore di x dalla potenza di 2? Estraendo la radice quadrata, quindi otterremo il valore di 21. La regola è in una proporzione continua, il valore del medio proporzionale si ottiene estraendo la radice quadrata del prodotto degli estremi. E adesso dalla teoria alla pratica. Stai aprendo una confezione da 100 centilitri di aranciata e sull'etichetta leggi che sono contenuti 20 grammi di zucchero. Se hai appena bevuto 40 centilitri di aranciata, quanti grammi di zucchero hai in gerico? Scriviamo i nostri dati sotto forma di proporzione, 20 sta a 100 come x sta a 40, quindi 20 grammi in 100 centilitri come x in 40 centilitri. x quindi è uguale al prodotto degli estremi diviso il medio che si conosce, 20 per 40 diviso 100, quindi 800 diviso 100, otteniamo che il contenuto di zucchero in 40 centilitri di aranciata è 8 grammi. Bene, ci vediamo in classe per le nostre attività di esercizio quotidiano. Ciao a tutti!